Buongiorno ragazzi e benvenuti a questo secondo workshop con un internehm in Deutsch Piazza Fari tedesco è un progetto del Goethe-Institut che mette in gioco le conoscenze di lingua e cultura tedesca dei ragazzi per accorciare la distanza tra scuola e mondo del lavoro Io credo che il tedesco mi dia una giusta strada per raggiungere i miei obiettivi principali studiare e vivere in Germania un giorno Ho scelto di proporre la lingua tedesca nel progetto dell'offerta formativa del mio istituto perché pensiamo che sia veramente un valore aggiunto per i ragazzi sia per quello che riguarda le prospettive nel mondo del lavoro sia per quanto riguarda chi vuole proseguire gli studi con una carriera universitaria scientifica nel mondo della ricerca Il tedesco a livello lavorativo è una lingua che sicuramente userò sia per il fatto che voglio diventare interprete sia perché in ambito lavorativo sicuramente mi aiuterà e avrò una chance in più rispetto a chi magari non lo ha studiato L'obiettivo del progetto è duplice far conoscere agli alunni l'ampia presenza sul proprio territorio di imprese tedesche e italiane che hanno rapporti commerciali con la Germania e creare attraverso la lingua tedesca opportunità di collaborazione tra la scuola e queste imprese Noi facciamo quasi tutto qui internamente all'azienda dalla parte di là le macchine da maglieria SAP è una firma per fare nuove collezioni qua appesi oltre alle idee che abbiamo ci sono anche i colori il prossimo inverno anche questo l'ho imparato in Germania ad avere sempre tutto ben chiaro Il progetto è un concorso di idee tra diverse scuole ogni scuola che aderisce all'iniziativa scelta un'impresa partner presente sul territorio condurrà i propri alunni all'analisi delle sue caratteristiche aziendali con l'obiettivo finale di ideare un prodotto o un servizio innovativo e di interesse per l'impresa scelta Lavorando in un'azienda tedesca capita molto spesso di avere a che fare con colleghi che vengono dalla Germania per settimane di lavoro presso i nostri clienti qui in Italia e avere una conoscenza della lingua e degli usi e costumi mi ha facilitato in quello che è il lavoro e la vita extra lavorativa con questi colleghi Io ho lavorato prima in Deutschland per SAP e dopo 7 anni sono io qui quindi questo è anche un'impresa se si pensi ok Quando creiamo la collezione io so già che vado a vendere ai giapponesi, agli americani, ai tedeschi, agli italiani per cui devo cercare di creare qualcosa che vada bene più o meno a tutti Woher kommt der Kashmir? Kashmir kommt aus der Mongolei innen o aus der Mongolei e sono questi due materiali innen o aus der Mongolei e sono miscati Wurde la tua firma di questa crisi? La crisi che in Europa è diventata più grande quindi la risposta è sì ma la SAP è una firma mondiale quindi globalmente siamo diventati trattati di questa crisi quando entri in contatto con una nuova realtà con nuove persone diciamo ti si apre la mente e la Germania mi ha veramente aiutato a capire come stare nel mondo del lavoro credo che la cultura, la lingua tedesca siano state molto molto importanti per la mia formazione non abbiate paura di sbagliare capiscono che sei straniero cioè buttatevi dite anche qualche sciocchezza perché viene apprezzata tantissimo perché hai scelto il tedesco? io ho scelto il tedesco perché sentivo che la mia zia a casa lo parlava molto e come lingua mi piaceva quindi ho deciso di studiarlo e in queste zone soprattutto della Toscana ci sono molti tedeschi che vengono quindi può essere utile per il lavoro è una lingua importante non solo l'inglese anche il tedesco serve molto nel commercio e nell'economia di oggi Piazza Fari tedesco è un'esperienza nuova, forte perché fa toccare con mano che il tedesco è una lingua richiesta dal mercato da buone prospettive di lavoro e una lingua sulla quale vale la pena investire per il proprio futuro oggi è stata una giornata fantastica mi ha riempito di gioia ha riempito di gioia la classe che ha partecipato al progetto il prodotto che abbiamo ideato ha messo insieme le idee di tutti gli studenti della classe siamo quindi fieri di noi stessi e soprattutto consapevoli del fatto che abbiamo avuto una chance incredibile per metterci alla prova abbiamo inventato una macchinetta energia solare rifacendoci alla figura del caballero quindi alle vecchie pubblicità della lavazza volevamo unire le nostre tradizioni quello del sole e quello del caffè con invece una tradizione tedesca che è quella appunto ecologica penso che studiare la lingua tedesca serva per il futuro per un qualsiasi lavoro specialmente per fare lo chef come voglio fare io in Germania o in Austria e sicuramente troverò più facilmente lavoro Piazza Affari tedesco è stato un concorso che ci ha fatto ricrescere sia dal punto di vista linguistico perché comunque siamo entrati a contatto con nuovi termini in questo caso tedeschi ma anche ci ha dato la possibilità di conoscere quello che è il mondo lavorativo penso che il tedesco sia stata una buona scelta anche se io personalmente non ho intenzione di andare a studiare tedesco in Germania o andare a lavorare in Germania penso che possa essere un passo in più per trovare lavoro in generale Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!